Le meraviglie e i segreti della storia industriale di Prato sono ora a portata di click. Durante Tipo Festival, la manifestazione dedicata al turismo industriale che si è svolta in questi giorni in città, è stata lanciata anche l'app ufficiale di Tipo Prato, uno strumento per vivere in autonomia i percorsi di turismo industriale che la città ha da offrire. L'app è stata realizzata da Space, un'impresa pratese di innovazione tecnologica dedicata alla valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale ed è scaricabile gratuitamente dagli store. L'app propone un percorso fatto da nuovi punti di interesse, un percorso ideale lungo il Bisenzio attraverso cui si possono fare varie esperienze di visita nei luoghi grazie a tutta una serie di media digitali innovativi come Virtual Tour che consentono per esempio di visitare virtualmente luoghi che non sono sempre accessibili, ad esempio il Cavalciotto oppure alcune aziende, alcune fabbriche che hanno sicuramente un bellissimo percorso interno. Ma Tipo Festival sarà indimenticabile anche per le sue mostre. Lo spazio Campolmi fino al 30 aprile ospiterà anche Archetipo, trame di una storia industriale, installazione multimediale a cura di Space SPA e poi ancora Tipi Storie dal distretto, una mostra fotografica a cura di Filippo Bardazzi in collaborazione con le aziende aderenti agli amici di Tipo. Vedrete in questi tableau uno accanto all'altro questi ambienti ora abbandonati, ora in piena attività, accanto a, che so, ovviamente l'operaio che è impiegato appunto nella fabbrica, all'artista per esempio che ha rilevato una parte appunto del nuovo ambiente. All'artista per esempio